Scendono, scendono, da qui, da qui la mano destra sale, mantenendo con tutti, poi gira, facevo lì, spingiamo giù, arco, torna al verso l'alto sinistra, poi spingi giù di poco, adesso, in assenza della mano avanti e dietro, spingi, arco, 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 l'alto, lo rubo a venti, spingi, da qui, la mano destra, torna al centro, e continui ad andare verso l'alto, Siete indietro Escrivete Secondo Adanzate 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 Le mani sono un po' talare Bueno, vieni a cercare Da qui Le mani crie Stavolta la mano sinistra La mano sinistra Qua è importante che C'è la mano sinistra Di sediamo dietro Adanzate 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 La sediamo giù SeLEco davanti Adanzate Bene Adanzate E qua Com'è Adanzate Adanzate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.